Il secondo appuntamento delle Lexio Magistralis organizzate da Unipegaso vede la partecipazione di Guido Calabresi, grandissimo studioso e con una storia molto particolare alle spalle. Calabresi è membro della Corte d'Appello federale statunitense. Nella sede di Via San Pantaleo va in scena una lezione che mette insieme teorie economiche e diritto cercando di capire come le due materie possono influenzarsi a vicenda. Sono qui questa sera per parlare un poco dello sviluppo del rapporto fra legge, diritto ed economia. Come è incominciato questo negli Stati Uniti, tra cui io ero proprio uno dei primi, come c'è stata una reazione verso di questa un po' scettica nell'Europa e come invece negli Stati Uniti è successo che questo rapporto fra teoria economica e diritto è diventato la cosa forse più importante nel diritto americano in cui l'economia è diventata la madre della legge, la regina delle scienze e la legge sua serva. Tra i presenti anche Giovanni Salvi, procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, pronto a seguire l'Alexio sul tema del giorno e il futuro della law and economics, ma chiamato anche a prendere parte ad un dibattito sul ruolo del giudice riguardo l'interpretazione della legge. Operante in un contesto di civil law, Salvi dice la sua riguardo l'ipotesi di interessarsi un giorno alla common law. In realtà con l'OE civillo si stanno molto avvicinando anche a Grazio, a causa delle decisioni della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo che cercano di costruire un modello unico di processo europeo, di istituzioni europee. Grazie. Grazie.